Una vita sul filo, la salvezza a pochi passi, il vuoto sotto di sé con il rischio di venire inghiottiti dal nulla. Prima il coma, adesso la rianimazione. Yusuf Asusso, il gambiano ferito alla testa con un colpo di pistola, adesso sta bene. L'aggressione di sabato è solo l'ultima di una lunga scia di odio e di razzismo e Palermo si è mostrato ostile, come mai prima d'ora. Un semplice pretesto come scusa per lo scontro. Emanuele Rubino ha prima cercato un'arma e poi, una volta tornato sul posto, ha aperto il fuoco, sparando al cervello del gambiano con la freddezza di chi ha saputo pianificare tutto. Come ha commentato in conferenza stampa a Rodolfo Ruperti, capo della squadra mobile di Palermo, si è trattato di un omicidio mancato. Nel Gambia, secondo Human Rights Watch, sono comuni le violazioni di diritti umani, con casi ripetuti e disparizioni forzate, detenzioni arbitrarie e torture. Come migliaia di extracomunitari, Yusuf è stata una vittima nel posto in cui ha sperato di trovare una vita migliore. Avventato il commento di Francesco Vozza, leader cittadino del movimento Noi con Salvini, che ha voluto dire la sua su Facebook. La Palermo è citante e sicura di Orlando. Dei migranti se le danno di santa ragione e parte pure un colpo di pistola, un giovane è in fin di vita, allegando la foto di una rissa tra profughi nell'isola di Cos. Semplice gaff su sfondo social o sapiente strumentalizzazione politica, di fatto il rischio di emulazione città e le porte, con il pericolo concreto di nuovi agguati verso gli immigrati e l'apertura di una violenta guerra razziale.